Proprio qualche giorno fa ne ha scritto un ragazzo che mi segue chiedendomi per quale motivo non riuscisse a piacere alle persone. Beh io inizierei con una piccola premessa mettiti in testa che non puoi piacere a tutti. Anzi ricordati che se piace a tutti in realtà vuol dire che non piace a nessuno. Al di là di ciò però tutti noi possiamo far sì che le persone possano apprezzarci un pochino di più e appunto voglio lasciarti tre semplici consigli a riguardo che penso possano esserti molto utili. Per prima cosa ricordati di essere sempre te stesso. Non fingerti mai una persona che non sei non soltanto perché prima o poi quel castello di illusioni che hai creato ti crollerà addosso ma anche perché così facendo potrai mostrare alle persone la tua vera essenza. Seconda cosa impara ad ascoltare chi ti sta davanti. Per ascoltare non intendo semplicemente lasciar parlare la... per ascoltare... non lo so perché... mi scappa da di là... ok. Per ascoltare qua non intendo semplicemente lasciar parlare una persona giusto per poi risponderle dopo ma cerca davvero di capirla e se necessario offrile il tuo aiuto. Ne approfitto per ricordarti che ho già realizzato un video a riguardo che puoi trovare sulla mia pagina facebook e sul mio canale youtube. Fammi sapere cosa ne pensi. Ci tengo. Il terzo ed ultimo consiglio è forse il più scontato ma allo stesso tempo è il più importante. Sorridi. Esatto sorridi ma sorridi davvero. Non limitarti a far vedere i denti. Sorridi con gli occhi. Sorridi col cuore. E fidati che sicuramente farai un'impressione decisamente migliore. Ricordati infatti che il sorriso è l'arma più potente che hai. Un sorriso infatti avvicina più di un passo. Un sorriso può aprire più porte di una chiave. Certo un sorriso non potrà cambiare il mondo ma un sorriso può cambiare una persona. E le persone, il mondo, lo possono cambiare.